Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Sono la dottoressa Beatrice Picchi, perché non mi conoscesse, sono farmacista e naturopata e soprattutto innamorata e consulente specialista di oli essenziali terapeutici Duterra. È un po' ridondante dire terapeutici Duterra perché Duterra è l'unica azienda al mondo che produce oli essenziali di qualità terapeutica con la certificazione, quindi vabbè, però è sempre bello dire Duterra, visto che è un nome bellissimo, significa dono della terra. Oggi volevo parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, che sono gli oli essenziali in gravidanza e in particolare per insegnarvi e per condividere con voi se sono sicuri o meno in gravidanza. Dunque, come molti di voi che mi conoscono e che mi seguono già sapranno, sono al sesto mese di gravidanza ed è la mia seconda gravidanza, la prima con gli oli essenziali. Durante la mia prima gravidanza, se avessi avuto sotto mano gli oli essenziali, avrei davvero evitato tante beghe, tante preoccupazioni sicuramente e avrei aumentato moltissimo la bellezza, l'armonia dell'esperienza e anche la sicurezza che adesso ho per assumere certe cose all'occorrenza quando si verificano certi disturbi. Quindi, non voglio parlare nello specifico di quali oli sono adatti per quali disturbi, magari faccio una carrellata, però volevo dirvi in generale se sono sicuri o meno. Dunque, intanto partiamo dal fatto che gli oli essenziali sono più sicuri in generale dei farmaci quando sono ben consigliati e quando sono presi nelle dosi giuste. Questo perché? Perché di fatto gli oli essenziali, soprattutto quelli di grado terapeutico, sono privi di metalli pesanti, non hanno eccipienti, non hanno conservanti, non hanno tutti gli allunganti, tutte le sostanze chimiche di sintesi che contengono i farmaci e soprattutto i principi attivi degli oli essenziali rispetto a quelli dei farmaci sono naturali, sono controllati e sono appunto quello che il nostro corpo riconosce che la natura ha previsto che noi usiamo per trattare determinate cose, mentre rispetto a molecole di sintesi sono estranee e quindi il nostro corpo le processe in modo diverso. È per questo che abbiamo molti effetti collaterali e in generale anche l'efficacia di questi farmaci può essere, come dire, non sempre prevedibile. Ci sono persone che traggono grandi benefici dall'uso di farmaci, la maggior parte delle persone hanno un rapporto beneficio-rischio o un po' dubbio e infatti magari molte persone non li prendono, non li sospendono anche per questo. Un'altra raccomandazione che voglio sempre dare è quella che gli oli essenziali sono sicuri in gravidanza, ma non tutti. Ci sono alcuni oli in particolare che non vanno usati, in particolare sicuramente per via interna, ma anche puri sulla pelle, perché possono provocare delle contrazioni o comunque sono implicati in processi fisiologici che durante la gravidanza sarebbe bene non dare, per esempio appunto una forte stimolazione, un forte riscaldamento, eccetera, eccetera. Questi oli, per esempio, sono il rosmarino, quelli a base di tuya, quindi per esempio la salvia sclarea, che è anche detta Clarissage. Si può usare anche all'aumento del travaglio sotto comunque un consulto di persone che sono esperte per stimolare anche le contrazioni, quindi è bene evitarla prima, ma ce ne sono tante, quindi magari faremo un'intera lista di quello, farò un post al riguardo, non ve li voglio elencare tutti ora. Sicuramente un'altra raccomandazione è quella di diluirli sempre. Questo per vari motivi, innanzitutto perché non abbiamo davvero bisogno di dosi molto alte di oli essenziali, e poi perché comunque vogliamo evitare che vadano in quantità troppo esagerate nel sangue, non abbiamo ancora tutti i dati certi su quali siano gli effetti sul feto, anche se non sono riportati anche, diciamo, come buonsenso, non dovrebbero, quelli appunto che sono consentiti in gravidanza, non dovrebbero causare degli effetti, è comunque sempre bene diluirli e limitare la quantità. Alla via interna preferire quella topica, a quella topica preferire anche la via aromatica. Ci sono tantissimi oli che possono essere davvero utili per i vari disturbi della gravidanza. Una delle cose che mi piace di più consigliare per quanto riguarda l'uso aromatico, soprattutto degli oli, è l'effetto sull'umore. Per molte di noi la gravidanza può essere anche un periodo difficile, abbiamo anche delle paure, delle emozioni forti che magari non ci aspettavamo, oppure ci aspettavamo ma in modo diverso, ci può essere un incremento dell'ansia, anche dei sensi di colpa magari nei confronti del lavoro, eccetera, qualsiasi cosa, e è straordinario l'effetto che questi oli possono avere sul nostro umore. Ovviamente nessuno si sognerebbe mai di dare il psicofarmaci a donne incinte, non in casi veramente estremi, ma come dico sempre, è sempre bene provare l'alternativa naturale rispetto a quella artificiale, sintetica. Quindi anche semplicemente usare Claricalm, che è una miscela appunto per le donne rassicurante, calmante, si può usare nei disturbi d'umore pre-ciclo, durante il ciclo, anche per il mal di pancia, eccetera. È una miscela fantastica, è già diluita con l'olio di cocco, quindi è favolosa, tra l'altro è un roll-on, io me lo passo sotto le ascelle tipo deodorante, oppure sulle tempie, sotto i piedi. Adoro anche usare Balance, Balance è fantastico, mi aiuta a tenermi davvero centrata, in equilibrio, sicura di me, ma anche calma. Serenity prima di dormire. Vi garantisco che sto avendo dei problemi veramente seri, a volte a lasciarmi andare, a dormire tranquillamente, e poi sapete, questo è un periodo particolare con il Covid, e vi garantisco che da quando mi massaggio i piedi con Serenity, o semplicemente faccio degli respiri profondi, non ho più problemi. A volte mi dico, cavolo, l'ho dimenticato e non riesco ad addormentarmi, lo vado a prendere e nel giro di 5 minuti dormo benissimo e mi sveglio la mattina dopo molto riposata. Ce ne sono davvero tanti altri di cui vorrei parlare, ma preferisco invitarvi alle classi che teniamo sulle mamme in gravidanza e oli essenziali, dove approfondiremo tutto questo. Se avete delle domande specifiche, me le potete benissimo fare nei commenti, sarò felicissima di rispondervi e ci vediamo al prossimo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale per non perdervi le novità. Un bacio e ci sentiamo presto!